Dalla comune di Agrigento 24.681 accertamenti e mora tra ICI e canone idrico arretrati. Il comitato di Canatello sul piede di guerra. Gli interventi al videogiornale. Davide Saia. Agrigento, città di stranezze e di vicenda anomale e curiose. Città che spesso dimentica che le amministrazioni dovrebbero servire cittadini e non viceversa. Ennesimo caso curioso è quello portato alla luce dal comitato di quartiere Canatello e riguarda le bollette idriche e l'anomalo consumo negli anni 2007-2008 oltre agli atti di messa in mora sui mancati pagamenti del canone idrico del 2008. L'origine del problema risale al 2007, quando l'allora sindaco piazza in via eccezionale applicò una tariffa maggiorata per impolpare le casse comunali in difficoltà. La tariffa si sarebbe dovuta applicare solo per l'anno 2007 ma stranamente e questa resta in vigore per gli anni a seguire. Solo nel 2011 il sindaco Zambuto, tramite legale del municipio agrigentino, l'avvocato Insalaco, fa sapere che quella tariffa non può essere applicata poiché è illegittima. La stessa tariffa è legittima e qui sta un'altra stranezza, viene però applicata dal comune per gli oltre 24.000 accertamenti inviati ai cittadini. La vicenda è entrata anche in consiglio comunale il 14 febbraio. E lo stesso, con una delibera, chiede la sospensione di queste verifiche per rivedere termini di pagamento del canone. Proposta stoppata però dal dirigente Giovanni Mantione, il quale fa sapere che non si possono rivedere queste tariffe, ma è possibile solo una verifica su richiesta dell'utente. Il presidente del comitato di quartiere di Cannatello, Renzo Marino, ha intenzione di agire anche per via legali, qualora il comune non annulli le richieste già inoltrate, oltre che a ridefinire il calcolo delle bollette. Marino, tra l'altro, tende ad evidenziare come oltre all'errore amministrativo sia presente anche un problema etico. È una contestazione di carattere etico perché non solo ci sono degli errori sul metodo di calcolo, ma noi riscontriamo anche dei comportamenti che sono discutibili da parte dell'amministrazione comunale nel momento in cui per le bollette del 2008 va ad applicare delle tariffe che il comune, nel momento in cui la gestione passa a girgenti e acque, ritiene siano illegittime. Per cui sostanzialmente si viene a determinare un paradosso. Il comune ritiene illegittime le bollette del 2008 nel momento in cui sono applicate da girgenti e acque. Quando invece ci deve mandare i maggiori consumi per il 2008, le applica. Ritengo che ci sia un problema comportamentale che va un po' oltre quella che è l'etica che dovrebbe essere applicata da una pubblica amministrazione nei rapporti con il cittadino utente. E quindi stiamo contestando, a parte tutte le altre motivazioni, anche questo comportamento che riteniamo sia assolutamente inaccettabile. Alla conferenza di stamane è stata anche trattata la problematica relativa alla questione dei lici dei terreni in zona C4 inerenti all'anno 2006. Infatti anche per questa tassa sono state registrate delle inesattezze che ci vengono spiegate dall'avvocato Calogero Termine. Le irregolarità che abbiamo riscontrato riguardano non soltanto le bollette idriche che il Comune di Agrigendo ha mandato per i maggiori consumi 2007-2008. Abbiamo riscontrato delle irregolarità non soltanto nella ricostruzione dei consumi in quanto il Comune ritiene di effettuare un calcolo presuntivo partendo da una presunta lettura che avrebbe realizzato alla data del 31-12-2004 che invece non è mai avvenuta. Vi è anche un problema relativamente a lici in quanto il Comune di Agrigendo nel 2012 nel dicembre del 2012 ha inviato una serie di atti di accertamento per quanto riguarda lici delle aree fabbricabili. Infatti il Comune con un ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa e poi al Presidente della Regione Siciliana ha ottenuto l'annullità delle prescrizioni dell'assessorato regionale al piano regolatore che avevano limitato la fabbricabilità nella zona C4. L'ICI va richiesta e va riscossa in un termine di 5 anni dal momento in cui doveva essere versata. Trattandosi di ICI dovuta per l'anno 2006 il Comune è in corso in decadenza già a partire dal 1 gennaio 2012.